Sindaco, si parla di forno crematorio, non è tanto il provvedimento del Consiglio di Stato perché si è creato un vero e proprio giallo. Ce lo puoi raccontare? Beh sì, hai detto bene, un giallo perché poi in questo provvedimento si fa riferimento a una relazione che in maniera incredibile, una relazione che non ha nessuna ufficialità e che era frutto soltanto di un'interlocuzione, di una relazione di carattere informativo. Stranamente questa relazione, dopo che la nostra amministrazione aveva dato mandato all'avvocatura di dar corso alla causa e quindi di seguire quello che era stato il procedimento iniziato dalla precedente amministrazione, dopo di questo è stata depositata telematicamente nel fascicolo e quindi inevitabilmente anche il Consiglio di Stato non ha potuto non prendere atto di questo. Questa circostanza è obiettivamente molto grave dal nostro punto di vista, abbiamo immediatamente informato all'autorità giudiziale di questo, stiamo redigendo un esposto per capire come sia possibile che si sia verificata una cosa del genere. Ripeto, ho tenuto conto del fatto che l'amministrazione aveva espresso una netta strada, una strada ben chiara e precisa per quanto riguarda la prosecuzione del giudizio. A fronte di tutto questo, è chiaro poi da un punto di vista tecnico il provvedimento del Consiglio di Stato fa riferimento soltanto a una delle prescrizioni, quindi alla possibilità di aumentare il numero di salme che potrebbero essere oggetto di questo servizio di cremazione. Però a fronte di tutto questo è del tutto evidente che la magistratura dovrà valutare la sussistenza di reati e capire, ripeto, come sia possibile che dopo che l'assessore Magliani, a nome dell'amministrazione ed ha mandato all'avvocatura di dare un corso al procedimento che, ripeto, era in linea con quello che era stata l'impostazione dell'amministrazione precedente, subito dopo, a distanza di poche ore, questo provvedimento appare nel fascicolo telematico della controparte. È effettivamente un po' anomalo.